e non è poco per un portiere intanto ecco che la palla va dentro non è che abbiamo bruciato Panagopoulos è che qui non è stato assistito dai compagni della difesa quattro uomini fermi esattamente e l'Inter dunque che raddoppia ecco un abbraccio nei confronti a Pietta realizzato il secondo gol da Napoli che va in anticipo è rimasto sull'arena di porta Panagopoulos anche perché si sentiva coperto dai compagni della difesa guardate invece come Napoli in mezzo a tanti avversari riesce a spuntare